Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La notizia shock di David Banda, figlio di Madonna, ha colpito tutti quanti. Il ragazzo di 18 anni ha sconvolto i suoi fan rivelando di vivere per strada e di cercare cibo tra i rifiuti. David Banda, figlio della celebre pop star Madonna, ha sorpreso tutti con le sue ultime dichiarazioni. Il giovane ha deciso di abbandonare la lussuosa residenza della madre nell'Upper East Side per vivere per strada. Questa scelta ha lasciato tutti senza parole. Il ragazzo ha deciso di vivere questa esperienza per allontanarsi dal lusso della casa materna. È bello vivere l'esperienza di non avere niente da mangiare, di rendersi conto di non avere abbastanza soldi per procurarsi del cibo e rovistare tra i rifiuti. È divertente essere giovani, ha raccontato su Instagram. Attualmente David vive nel Bronx e si guadagna da vivere dando lezioni di chitarra. Ha anche parlato della sua ragazza, con cui si trova bene. La sua decisione di vivere per strada ha suscitato molte reazioni e preoccupazioni tra i suoi fan, che si chiedono il motivo di questa scelta così radicale. Nonostante le preoccupazioni, David sembra essere determinato a vivere questa esperienza e a scoprire un lato diverso della vita. Resta da vedere come evolverà questa situazione e se la madre madonna interverrà per aiutare il figlio in questa nuova forma.